Carissimi amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi sistemi un attimo ecco perché vengo con la testa un po' tagliata. Allora, vediamo. Oggi abbiamo un po' di cosette. Allora, la prima è, diciamo, intanto le scelte sono sempre tre. Scusate ma io vado ad impronta, è difficile che riesca a programmarmi le cose. Inteso queste cose così che hanno a che fare con con qualche altra energia che non è molto terrestre. Allora, iniziamo con Sisterhood, quindi saranno tre le scelte, o la 1, o la 2, o la 3 e poi abbiamo delle altre aggiunte per ognuno delle scelte. Quindi la 1 avrà un'altra scelta 1 di un'altra cosa e un'altra scelta 1 di un'altra. Va bene? Allora, iniziamo da Sisterhood che è il testo che ho scritto assieme a Gianfranco Pereno e lui è un ottimo disegnatore, fa delle cose molto belle e io ho fatto la canalizzazione per ogni figura, per ogni immagine che lui ha creato. Allora, vediamo. La prima quale sarà? La prima è questa. Sorella Civetta. Questa sorella Civetta ci dice Incarno lo spirito della Civetta, che sa come proteggere la propria famiglia e i propri piccoli. Se mi chiamerai, arriverò come un lampo nella notte e ti inizierò la tecnica antica della chiaroveggenza che da sempre mi compete. Nessuno può prendersi gioco di una persona che vede oltre il velo. È per questo che rappresento il lato oscuro dell'energia femminile. Accolgo in me la cultura ancestrale del focolare. Sono saggia e vedo nell'oscurità dei cuori. Proteggerò i tuoi cari e, se sarai in grado di ascoltare il tuo maestro interiore, avrai accesso a grandi benedizioni. Questo è uno. Il secondo, vediamo. Andiamo con questo. Ah, Madre Saggezza. Allora. Il mio volto è giovane, ma sono un'anima antica e, quale anima antica, porto con me tutte le esperienze di questa terra. So come agire in ogni circostanza e il mio animale totem lo sa molto bene. Sono forte e fiera come lui. Impara a leccarti le ferite come ho fatto io e riparti a testa alta che le ferite ti faranno crescere e ti daranno la forza per attuare il cambiamento facendo leva su quello che hai sperimentato. Piantati a terra come un albero e come un albero metti sane radici. Nessuno potrà farti cadere. La seconda, la terza, pardon, è questa. Vediamo cosa viene fuori. Sorella innocenza. Difendi il tuo lato innocente. Tira fuori gli aculei se ti senti sopraffatto dagli altri. Difendi la tua purezza e un manto di luce ti avvolgerà e ti proteggerà dagli invadenti. Il mio amico riccio ti insegna la dedizione. Vedete? Ha un piccolo riccio qua. Ti insegna la dedizione, l'umiltà e la pace senza dover sempre aggredire gli altri per ottenere ciò che vuoi. C'è posto per tutti in questo mondo. Impara soltanto a farti spazio tra la gente con i tuoi aculei ma senza mai ferire nessuno. E qui abbiamo le prime tre varianti. Adesso andiamo con le seconde tre varianti. Allora per chi aveva scelto la numero uno c'è la foresta e questa foresta vi indica che praticamente dovete entrare all'interno di una foresta. Stiamo parlando a livello sempre metaforico all'interno di una foresta per trovare quello che desiderate. Può essere l'amore, può essere una carriera, può essere la soluzione ad un problema. Dovete entrare all'interno della foresta. Spesso ricordatevi che la foresta è dentro di noi. La prima carta invece per quanto riguarda l'ultimo mazzo la facciamo insieme. Vediamo cosa viene fuori. Ok, facciamo così e scegliamo la prima carta. entropia. Quindi dovete lavorare con l'entropia. Ricordatevi un po' la chimica che avete imparato a liceo, non lo so. Lavorate con l'entropia del sistema. Comunque bello, molto interessante. Per chi aveva fatto la seconda scelta? Il comico. Vi sta dicendo per piacere fai tutte le cose in maniera divertente. Probabilmente stai attraversando forse un periodo un po' pesante e quindi hai bisogno della comicità, di ridere, ridere. Lo diceva sempre anche il signor Roll quando veniva a trovarci. Ridete, ridete, ridete. Ridere è importante. Perché? Perché il riso intanto sdrammatizza e quindi porta via le energie basse. Perché le energie basse tendono a mantenerci in uno stato di torpore che è molto peggio che, non so, il malessere, eccetera. Il torpore è il nulla. Perché se uno sta male, ok, sta male, no? Però invece il torpore è il non sapere cosa fare. Lo stare lì e magari posare nel divano senza fare altro. Ma non perché voglio riposarmi. Perché è come se io non avessi altre opzioni. O meglio, magari non sapessi trovarne delle altre. E quindi non va assolutamente bene. Allora, vediamo la seconda carta che può andar bene con questa. Quindi, per chi aveva fatto la seconda scelta. Allora, e dice la stella. Ah beh, bellissima. Che cosa fa una stella? Una stella illumina. Quindi ricordatevi che il vostro cammino è illuminato. Seguite la stella. Andate avanti e prosperate in questo senso, ok? Seguite la stella e cercate quello di cui avete bisogno. Fatevi illuminare dalla stella. Quindi è una carta molto molto bella. Come la carta della stella o le stelle. A volte ha due nomi differenti nei tarocchi. Che è un arcano maggiore, tra l'altro. E poi l'ultima scelta. Chi aveva fatto la terza scelta del sisterhood? Adesso ha questa. Questa carta si chiama il poeta. Il poeta vi dice di creare. Se avete uno spirito creativo sopito, perché spesso il nostro spirito creativo è sopito, ritiratelo fuori e create. Fate della vostra vita poesia. Può essere poesia, può essere un dipinto. È sempre una cosa, diciamo così, poetica. Tirate fuori le vostre poesie interiori e recitatele al mondo. Perché il mondo ha bisogno di poesia, di saggezza e di leggerezza. La poesia, oltretutto scrivere, ma anche fare altre cose, cioè dedicarsi ad altre arti. La poesia è intesa come arti in generale anche, no? Quindi dipingere, cantare, ballare, ok? Questa è poesia della vita. Quindi sappiate che le arti in generale alleggeriscono e fanno stare bene, ok? E non solo, servono a noi e servono anche ad altri. E adesso guardiamo l'ultima carta. L'ultima carta qui. Vediamo cosa viene fuori. Ok, proviamo questa. Ah, è una carta selvaggia, si chiama. Carta selvaggia. Wild card. E questa wild card ci dice che praticamente anche dai luoghi meno opportuni, o meglio, dai terreni più tristi, aridi, senza nutrimento, escono delle cose meravigliose. Basta annaffiarle di tanto in tanto. Quindi viva la wild card. che ci dice comunque anche che ogni tanto abbiamo bisogno di fare un po' i selvaggi nella vita. È importante, eh? Bene, divertitevi e ritornate a fare venerdì sull'isola assieme a Robinson. Scegliete voi. Fate Robinson, che era comunque rimasto con la sua mentalità da homo economicus, oppure fate il selvaggio venerdì. E agite da selvaggio venerdì, senza però inchinarvi troppo al conquistatore. Vi saluto con questa chicca di letteratura e vi auguro un'ottima settimana. Ridete, gente, ce n'è bisogno. Poi, adesso che arrivano le lezioni, ridete perché non c'è altro da fare. Arrivederci, un abbraccio a tutti.